Saludici appassionati di Football Manager, qui come sempre c'è Mike94, ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di nuovo su Football Manager 2020 con il nostro mitico Spezia e oggi andremo a vedere praticamente tutto il mese di febbraio Quindi i match contro Napoli, Juventus, Benfica, Sassuolo e Trapani In questo caso penso che andremo a vedere solamente i gol Volevo mostrarvi anche la partita contro il Milan ma è stata noiosissima, è finita 0-0 quindi non c'è praticamente nulla da farvi vedere Contro il Napoli giochiamo con Trappa, Lonzo, Felipe e Todibo, Ajampon, Gomez, Diawara, Moriba, Fati, Olsen e Arezzo È una partita molto importante, è l'andata delle semifinali di Coppa Italia È una partita comunque ostica, è stata una partita abbastanza noiosa, lo possiamo dire Le due squadre si sono studiate tantissimo, infatti questo presunto calcio di rigore che non è, si vedeva ad occhio nudo È stata la prima azione emozionante, fra virgolette, stiamo al 47esimo Questa seconda azione importante è addirittura al 70esimo Quindi un po' come la partita con il Milan, sia il Napoli che lo Spezia non hanno messo la quinta Non si sono scoperte troppo, considerando che comunque c'è una partita ancora da giocare Che nel nostro caso sarà in casa, quindi in Liguria Questa è un'azione comunque pericolosissima Però è stato bravo qui Meret a bloccare il... no a bloccare ma almeno non far entrare il tiro di Arezzo Poi subito dopo c'è l'occasione importante sulla testa di Moriba Ma purtroppo anche in questo caso il buon Meret para Così come accade anche a noi, siamo al 91esimo ragazzi Tiro da calcio d'angolo di Lincoln, bella la parata di Trap che tendenzialmente salva il risultato E questa è ragazzi praticamente l'ultima azione L'ultima azione importante, infatti il match è finito 0-0 Così come poi la partita con il Milan Qua fa ancora vedere le azioni ma già vi spiego che non c'è niente di così bello ed emozionante Come già detto partita molto noiosa, 1-0-0 che a noi può anche andare bene considerando che siamo al San Paolo Contro la Juve gioca Trap, Alonso, Felipe, Todiboi, Champong e Diawara dietro i due di centrocampo Herrera e Moriba, Fatih Olsen e il buon Arezzo La prima azione è pericolosa, c'è al 45esimo con Pjanic da calcio d'angolo C'è Kulusevski indietro per Tolisso, Edward, c'è Cristiano Ronaldo ma c'è anche il grandissimo Trap che blocca il tiro Siamo direttamente al 51esimo con Tolisso che la spalla in avanti per Edward Edward indietro per Pjanic, c'è ancora Tolisso che viene fermato da Herrera che si becca il doppio giallo e viene espulso Quindi praticamente 40 minuti in 10 per il nostro buon Spezia Partita ragazzi anche questa molto noiosa, molto studiata Infatti siamo all'85esimo con la Juve che attacca Non ha fatto granché nonostante l'uomo in più E noi ci siamo difesi ad oltranza, questo potete ben immaginare Non stiamo giocando benissimo, non è il nostro miglior periodo Arriva anche questo gol di Moriba che mi faceva esultare, mi fece, mi ha fatto esultare Ma purtroppo a causa di un fuorigioco viene annullato Quindi ragazzi, terzo 0-0, fa veramente strano ma ebbene sì, anche questa partita l'abbiamo pareggiata E in questo caso ci è andato pure di culo considerando appunto l'escursione al cinquantesimo di Herrera E non mi è mai capitato di fare 3-0-0 di fila Sicuramente ne gioverà trap visto che sta mantenendo l'imbattibilità per un po' di partite A noi va un po' meno bene visto che per la strada abbiamo perso 4 punti E poi invece il pareggio a San Paolo potrebbe pure andarci bene ecco Contro il Benfica l'obiettivo è quello di fare almeno un gol E all'andata degli ottavi di Champions League Giochiamo in casa e giochiamo con trappa Alonso Felipe, Todiboi, Jampong, Diawara, Herrera, Moriba, Fati, Olsen e Arezzo Gioca Diawara davanti alla difesa È un ruolo che può fare senza troppi problemi Ma anche perché Gomez è infortunato e ancora in verità anche scontento insieme ad Arezzo Perché volevano entrambi un rinnovo contrattuale che non è ancora arrivato Anche perché le richieste sono veramente ridicole e assurde Siamo al primo minuto, lo Spezia mette l'acceleratore Quasi stava per segnare il gol del possibile vantaggio Purtroppo così non è andata E quindi ancora ovviamente 0-0 Continua l'azione ad oltranza ma anche inutile Siamo al nono minuto con la Benfica che ovviamente vuole rispondere all'offensiva dello Spezia C'è Vague sulla sinistra e c'è Vinicius ragazzi che è cresciuto tantissimo E non so se ve lo ricordate è quell'attaccante che il Napoli aveva preso a circa un milione E poi l'ha venduto a 20 al Benfica senza mai aver giocato una partita con il Napoli Intanto arriva al ventesimo il gol di Felipe E Marco Salonzo sta sempre di più sostituendo il buon Pedrinho Che era il mago degli assist e dei calci piazzati Lui e Agustin lo stanno sostituendo diciamo degnamente Quindi 1-0 al ventesimo ottimo inizio per il nostro Spezia Comunque ci è andata abbastanza bene come pescaggio insomma Agli ottavi beccari il Benfica ma comunque non dobbiamo sottovalutare l'avversario Anche perché ho visto ragazzi il Benfica tiene uno squadrone incredibile C'ha parecchi giovani uno più forte dell'altro Fra cui anche questo attaccante che è veramente molto valido Ha segnato già una fracca di gol e poi c'ha Zuma Giocatore che penso conoscete tutti Ha veramente una squadra invidiabile Tanta roba Infatti può essere che nel mercato estivo qualche colpicino da loro lo potremmo fare Carlos Vinicius qui stava quasi per segnare il gol del pareggio Siamo al ventisettesimo ancora il Benfica che attacca Dopo il nostro gol c'è stato solamente attacco rosso Attacco del Benfica e arriva il gol purtroppo meritatissimo di Carlos Vinicius Che l'aveva sfiorato già due volte nei minuti precedenti Ancora il Benfica Io ovviamente già mi stavo incazzando con la squadra che è partita alla grande Ma poi praticamente si è dimenticata di giocare Sicuramente una partita molto più divertente rispetto a Milan, Juventus e Napoli E Napoli e Juventus ragazzi ve lo volete far vedere anche Nonostante 0-0 giusto per creare un po' di suspense So benissimo che per ora ero partite E azioni evitabilissime così come era anche evitabile la visione di questo tiraccio di Scovolsen Siamo al cinquantacinquesimo con sempre Scovolsen sulla fascia destra E al centro c'è il buon Arezzo, c'è Moriba Arezzo Bella qui la parata del portiere portoghese o meglio della squadra portoghese C'è Alonso ancora e Diavara qui tira un missile terra aria Sempre su assist di Marcos Alonso E 2-1, 2-1 per la Spezia non posso dire ovviamente meritato Ma sti cazzi sono contento così C'è il Benfica però adesso che vuole attaccare Siamo al settantacinquesimo Zuma la spara in avanti dove però c'è il grandissimo e fortissimo Totibou C'è ancora Herrera che si deve far scusare per l'espulsione contro la Juve Ancora Herrera La passa Moriba Herrera, Diavara, ancora Herrera Ancora Diavara, serie di scambi Qua perdiamo il pallone sicuro, per fortuna no c'è Marco Salonso Herrera di tacco per Diavara Che bel gioco Ancora Skvorsen sulla destra La passa indietro per il Benfica Però ancora palla Bello Spezia E azione veramente lunghissima Perché il gioco ci vuole far godere Perché arriva il golasso del figlio del prodigo Nachiun Uvar Giocatore che stiamo amando Giocatore veramente fantastico E sono ovviamente contentissimo di avere in squadra Anche se poi dopo poco si fa leggermente male Arriva però purtroppo Fallo Del nostro difensore Dobbiamo solo vedere se adesso è rigore Comunque Siamo adesso sul 3-1 Vediamo un po' cosa succede Vediamo cosa succede Calcio di rigore per il Benfica Siamo sul 3-1 Lo abbatte sempre Vinicius Se non sbaglio Sì Sempre Vinicius Che accorcia il risultato 3-2 Ovviamente gol molto importante Per la partita di ritorno Comunque finisce qui il match 3-2 Partita da pareggio Secondo tempo però meglio Spezia Il primo tempo dopo il gol di Felipe Veramente hanno attaccato come dei matti I portoghesi Comunque sono ovviamente contentissimo Contro il Sassuolo Ritorna Gomez Gioca da Lo Giusto per fare Qualche cambio Partita importante Perché comunque dopo due pareggi Dobbiamo assolutamente Ritornare alla vittoria In Serie A Anche se siamo al 26esimo Il Sassuolo sta per trovare il gol Del vantaggio Partita abbastanza noiosa Anche in questo caso Infatti siamo al 67esimo Con Gil che avanza E c'è qua poi il tiraccio di Moriba Che la spara veramente Nell'altro campo Siamo sempre al 70esimo Con Alonso che la passa indietro A Gomez Di Avarancora Gomez C'è Felipe Felipe per Moriba Bello il pallone per Gil La passa a Scovolsen Che trova il gol Del vantaggio Al 70esimo 1-0 Spezia Gol comunque molto importante Perché ripeto In Serie A Stiamo facendo un po' di Fatica Ancora Alonso Ancora Olsen Sempre di testa E siamo Sul 2-0 Al 76esimo Bella risposta Dei ragazzi Che dopo un primo tempo Veramente disastroso Hanno ripreso A giocare Forse nel secondo tempo Stiamo giocando meglio Lo stesso È accaduto Contro il Benfica Anche se Poi arriva qui Il gol di Tra Ré Il giocatore Comunque fantastico Che riapre la partita Anche se Come potete ben vedere Questa è stata L'ultima azione E quindi Abbiamo vinto Per fortuna Ovviamente sono Contentissimo Abbiamo vinto appunto 2-1 Partita Possiamo dire Comunque Giocata bene Non sicuramente Una delle nostre Migliori partite Però Sicuramente abbiamo Giocato meglio Rispetto ai match Precedenti Anche quella Contro il Trapani Non è stata una partita Bellissima Diciamo che A parte il match Col Benfica Che è stato ricco di gol Febbraio È stato un po' avaro Di emozioni L'unica emozione Che però ci ha creato Questa partita È il gol Che c'è stato Abbiamo vinto 1-0 Contro il Trapani E veramente ragazzi Questo è un gol Stupendo Di Scovorsen Che si fa Tutto il caso Cioè tutta la metà Campo Lui palla al piede Tira una sassata Di sinistro E segna il gol Dell'1-0 E niente Abbiamo vinto 1-0 Diciamo Meritando Il Trapani Comunque Non ha giocato Benissimo Noi potevamo giocare Decisamente meglio Ma ripeto Questo mese È stato avaro Di risultati E di emozioni Certo potrebbe andare Di gran lunga peggio Considerando che Abbiamo giocato In poco più di un mese Con Lazio Roma Milan Napoli Juventus E non è arrivata Una sconfitta Se non quella Poi con il Napoli Di gennaio Quindi su questo Non ci possiamo lamentare Ma ovviamente Questi pareggi Pesano Sulla classifica Perché La Lazio Si fa avanti Prepotente E infatti Siamo a pari punti Con Appunto La squadra Bianco Celeste E un campionato Comunque Molto difficile Perché comunque Tutte stanno là La Juve È a meno 3 L'Inter È a meno 4 Il Napoli A meno 7 Quindi È un campionato Apertissimo Dove Nonostante comunque 17 vittorie 6 pareggi E 3 sconfitte Ci ritroviamo Con la Lazio Dietro A 0 punti Quindi Dobbiamo andare avanti E fare bene Non è facile Perché comunque Giochiamo ancora 3 competizioni La Coppa Italia La Serie A E ovviamente La Champions League C'è un Un ottavo Da passare Questo Questo è il mio obiettivo Arrivare almeno ai quarti Diciamo che Metà dell'opera L'abbiamo già fatta Speriamo bene Speriamo assolutamente bene E nel prossimo episodio Ovviamente Andremo a vedere La partita Il mese di marzo Non la partita Andremo a vedere ovviamente La semifinale con il Napoli La partita con l'Atalanta Il ritorno con il Benfica Brescia e Sampdoria Semmai queste due Andremo a vedere Solo i gol Se ci saranno Detto ciò Io spero che questo video Vi sia piaciuto Come sempre C'è il like Commentare Condividete Fate tutto ciò Che vi pare E grazie di tutto Un saluto da Mike94 E benvenuti anche da Football Manager Italia Ciao ragazzi Ciao ragazzi